Da consigliere comunale intendo ottimizzare le risorse umane del comune di Taranto, penso agli ausiliari del traffico. Per questo sto ponendo una interrogazione scritta all'amministrazione per sapere quali sono tutte le competenze che la legge istituzionalmente riserva loro, di modo che possano ampliare il ventaglio delle proprie attività. Per esempio potrebbero disciplinare la sosta selvaggia, potrebbero sanzionare la sosta selvaggia, penso alle auto in doppia fila e in questo modo alleggeriremmo il compito dei vigili urbani. Allora destineremmo gli ausiliari del traffico anche a questa disciplina, elevare contravvenzioni contro certi incivili che se ne fregano e lasciano le auto in doppia fila e parimenti i vigili urbani avrebbero un minore carico di lavoro in questo settore e indirizzerebbero maggiormente la loro sfera operativa nell'ambito della sicurezza, perché sono tanti i casi di abusi, di violenza presenti sul territorio di Taranto rispetto ai quali i vigili dovrebbero intervenire. Allora evitare così una duplicazione di funzioni tra ausiliari del traffico e vigili urbani andando a destinare, a individuare le relative sfere di competenza e sfere di azione. È una proposta, come vedete io non amo solo denunciare ma anche proporre e ritengo che quella rappresentata dagli ausiliari del traffico sia una risorsa e questa gente in questo modo avrebbe ulteriori competenze e avrebbe anche un incentivo, un miglioramento nella propria busta paga alla luce delle ulteriori attività perché, diciamocelo francamente, le buste paga di queste persone che sono gettati per una strada, passatemi questa espressione, col sole e con la pioggia penso che meritino anche un incentivo, un miglioramento economico per loro ma soprattutto un miglioramento economico per rendere più efficiente il servizio della disciplina della città, appunto una disciplina che è importante, è molto importante e peraltro concludo, non vorrei che questo poi potesse creare delle gelosie tra una categoria e l'altra e viceversa, assolutamente no, vigili urbani e ausiliari del traffico devono coesistere con le loro competenze per il bene comune della città sono entrambe risorse preziose, quindi voglio sgomberare il campo da eventuali gelosie che magari, che so, potrebbero crearsi da parte dei vigili urbani nei loro confronti ho voluto sgomberare il campo e lo ribadisco, vigili urbani e ausiliari del traffico sono preziosi per il territorio e vogliamo valorizzarne le competenze attraverso una disciplina delle loro attività Grazie a tutti